Oggi proviamo a fare un gioco magico, proviamo a fare i colori che friggono per rendere coloratissima la nostra giornata. Ci servirà del bicarbonato, è una polverina bianca, vedete, morbida e vellutata. La mettiamo in un contenitore o in una scatola, in questo modo. Poi prepariamo i nostri colori. Io qua ho messo della tempera verde, ma voi potete usare anche i colori naturali, quelli che usa la mamma per colorare i dolci, ad esempio. Mettiamo in questo colore un po' di aceto. Mischiamo bene per colorare l'aceto. Io ne ho preparati tanti altri, voi potete fare lo stesso. Mischiamo, mischiamo, mischiamo. Adesso andiamo a vedere se si fa la nostra magia. Prendiamo con questa siringa un po' di aceto colorato. Guardate un po'. Friggi, avete visto? Ora proviamo con un altro colore. Avete visto? E il blu? Cosa capiterà col blu? Un po' di rosa. Oh, come frigge il rosa, avete visto? Proviamo un po' il marrone. Voilà. Metterei ancora un po' di rosa. Avete visto? Che magia e che bei colori. Ciao bambine e bambine, ci vediamo la prossima volta. Ciao!